Cinque anni fa sono stata diagnosticata con il Parkinson. Per coloro di voi che non conoscono molto bene il Parkinson, dipende molto da una persona all'altra. Per me specificamente non avevo energia, ero depressa, non ero capace di muovere velocemente, ero fino al punto dove andavo molto molto lentamente, usavo un bastone o anche proprio dei bastoncini da sci, avevo una nebbia mentale terribile, non riuscivo a sorridere, mi ha rubato il sorriso. Quando camminavo non riuscivo neanche a muovere le braccia, ricordandomi quanto era difficile. I miei amici mi parlavano e non c'ero, ero altrove. Non sapevo che cosa stava succedendo con me fino alla diagnosi. Non è che fossi contenta per la diagnosi, ma almeno sapevo che cosa avevo e potevo provare a fare qualcosa. E quindi presi degli medicinali, segui dei corsi di esercizio fisico per persone con Parkinson. E questo mi ha aiutato abbastanza. Due anni e mezzo fa la mia vicina e amica mi ha dato dei Cerotti X39 da provare. Ero molto aperta e non sapevo che cosa avrei potuto fare per me. Dopo qualche settimana notavo che avevo sempre più energia e che continuavo a migliorare un pelino alla volta. La nebbia che avevo nel cervello sparita. Ero a un punto, prima della diagnosi, che ero suicidale. Non volevo continuare a vivere. Non volevo vivere in questo modo. Questo cerotto è stato un vero miracolo per me. Quindi un pezzettino alla volta le cose sono migliorate. Camminavo dritta. Penso, ho un pensiero molto chiaro. Avevo un'ansia terribile. Non ho più ansia. Dormo meglio. Ho aspettato, ho fatto una lista. Quindi sì, camminavo pian pianino. Il corpo mio sembrava fatto di piombo. Non riuscivo proprio a muoverlo. Per quanto provassi, non riuscivo a leggerlo, a muoverlo e a muovere le articolazioni. Era terribile. Negli esercizi che dovevo fare, dovevo fare dei saltelli. Era difficilissimo. Dopo un salto dovevo sedermi a prendere il fiato. Adesso riesco a fare tutte e trenta secondi di saltelli senza interruzione. La mia energia è tornata. La voglia di fare è tornata. I miei occhi erano morti. Non c'era niente. Non c'era vita nei miei occhi. E adesso mi sembra che la vita sia tornata nei miei occhi. I miei amici che non mi vedono da qualche anno e mi vedono recentemente non riescono a credere alla differenza. mi hanno detto, mi dissero se non cambi considera che sia una benedizione. no, io invece sto molto meglio, grazie, ma sto molto meglio. Non uso nessun ausilio per camminare. sto uscendo dai sintomi di Parkinson e voglio dire a tutti coloro che hanno Parkinson sappiate che potete fare meglio. Sappiate che bisogna essere consistenti, usare i cerotti e restare ben idratati. mi sembra quasi impossibile che uno non possa migliorare dopo quello che ho vissuto io. L'X39 insomma è tutto un altro livello e ormai uso tutti i cerotti dell'azienda. dopo due anni pensavo che cos'è cambiato in questi due anni? Mi sento più forte e meglio ogni giorno. Ho anche perso del peso. Non è che mi interessava più di tanto, però insomma ho perso circa dieci chili. È proprio svanito. Non stavo cercando di perdere peso. Ho lo stesso peso che avevo quando avevo vent'anni. Impressionante. Sono più equilibrata. più terra-terra. Contenta. Non ho ansia. Dormo molto bene. Vabbè, insomma avete capito che mi ha mi ha scombusolato la vita per il meglio. So che le persone con Parkinson sono molto timide. Difficile per loro uscire dal loro guscio e parlarne ad altri. Ma voglio dire se avete Parkinson o conoscete qualcuno con il Parkinson è una malattia terribile e sapere che c'è un metodo per migliorare è importante. Quindi è una malattia terribile quindi serve